E continuiamo a parlare della gazebata dello scorso fine settimana andando a sentire l'eurodeputato Lorenzo Fontana che ci racconta com'è andata in Veneto. Sentiamolo. Eurodeputato Lorenzo Fontana, lei è il promotore insieme a Mara Bizzotto di questa raccolta firme di una petizione che sta avendo molto successo nella gazebata di questo weekend qui in Veneto. Come mai chiediamo di firmare per una petizione europea se trattasi dell'argomento del rimpatrio dei detenuti stranieri nelle nostre carceri? Questa petizione nasce da un'esigenza, nasce dall'esigenza che in Italia vi è il sovraffollamento delle carceri e spesso e volentieri si sente dire che per risolvere questo sovraffollamento servirebbe l'amnistia. Noi ovviamente siamo contari a un provvedimento di questo tipo perché abbiamo visto già con l'indulto qualche anno fa come sono andate a finire le cose. Il tutto si è tramutato in un'insicurezza da parte dei nostri territori, un'insicurezza per i nostri cittadini e quindi noi abbiamo ritenuto che invece c'è una possibilità alternativa. Questa possibilità è appunto quella di fare in modo che i detenuti di origine straniera scontinuano la pena nel proprio paese di origine. Teniamo conto che abbiamo circa 23.000 detenuti stranieri e togliendo queste persone non avremo più il problema del sovraffollamento delle carceri. Risparmieremo circa un miliardo di euro all'anno e oltre a questo c'è anche da dire che sicuramente questo potrebbe essere un deterrente per tutte quelle persone che pensano di veniremo nel nostro paese magari per delinquere e quindi sarebbe sicuramente un deterrente perché andare a scontarla appena in determinati paesi non è come scontarla ovviamente in Italia dove talvolta anche non si sconta. Abbiamo parlato un po' di numeri, le percentuali cosa dicono qui nel nord, nelle carceri, che presenza c'è di estracomunitari? Beh allora abbiamo il 30% circa a livello nazionale, dopodiché se andiamo nelle carceri del nord, soprattutto in Lombardia e il Veneto, abbiamo una percentuale che si aggira fra il 60 e il 70% di detenuti stranieri. Vi sono sia stranieri comunitari e quindi dove l'Unione Europea potrebbe agire in maniera molto più veloce proprio perché fanno parte questi paesi della comunità europea, e abbiamo anche tanti stranieri extracomunitari e da questo punto di vista l'Europa sicuramente se facesse degli accordi bilaterali potrebbero sicuramente essere alla portata e potrebbero sicuramente essere più incisivi rispetto a quanto magari non possa fare uno Stato membro da solo. Quanto in Europa viene sentito questo problema? Cioè noi raccoglieremo le firme, anche altri paesi lo stanno facendo, lei che ha il polso della situazione nel Parlamento europeo che cosa sente? Beh sicuramente ci sono tanti paesi dove questo problema è sentito, soprattutto nella cosiddetta vecchia Europa occidentale, il problema dei carcerati stranieri è molto elevato dappertutto, è sicuramente un problema sentito e tanti si stanno chiedendo perché vogliono accodarsi, la nostra petizione e tanti gruppi politici in Europa ci vogliono aiutare in questa che ritengono una cosa che sia sensata anche per loro. Lorenzo Fontana, parallelamente a Negazebo si raccoglievano anche le firme per lo Ius Soli, insomma cosa ne pensa lei di questa iniziativa, di questo ministro dell'integrazione congolese e della sinistra? Perché insomma Bersani l'aveva promesso e infatti è stato mantenuto. Faremo la cittadinanza breve e daremo il diritto di voto amministrativo il più presto possibile agli estracomunitari? Beh, sicuramente bisogna ricordare che lo Ius Soli al momento in Europa è presente solamente in Inghilterra e proprio due settimane fa la regina d'Inghilterra ha detto che vuole regole molto più restrittive sull'immigrazione, particolarmente sull'immigrazione clandestina, quindi questo fa già capire che in tutta Europa si sta andando verso un restringimento per quello che riguarda le regole dell'immigrazione, proprio perché ci sono dei problemi notevoli di integrazione e perché l'integrazione non si fa facilitando l'immigrazione, ma si fa facendo in modo che le regole siano severe e che vengano rispettate.